e ragazzi io sono ferini e io sono stef e dopo fortnite.io questo oggi giochiamo a minecraft.io sinceramente non so da dove è uscito fuori non so se ce l'ha da un sacco di tempo però mi l'ho sempre chiesto perchè non ce l'ha dal punto io di minecraft e effetti ormai li stanno facendo delle cose più disparate esatto quindi perchè non parlo di minecraft non so neanche come funziona cioè non so se dobbiamo ok aaa no vabbè prendi anche l'armatura bellissimo ok quindi abbiamo la tnt è un po' difficile muoversi te lo dico cosa sono questi diamanti semplicemente del cibo per diventare più grassi secondo me si grossi grassi anche se poi ci sono pure le mele quindi bisogna le mele magari sono per no vedi che non me le mangia per curarti ok molto chiaro perfetto con destro utilizzo del mio potere ma faccio uno sprint ok può essere utile sia per uccidere sia per difenderci no ti mangia anche le mele comunque evidentemente i diamantini sono per caricare il tuo potere bello lardo bello uccidi uccidi sei un noob armato adesso vai step chi c'è chi c'è chi mi vuole affrontare nessuno nessuno oh con le torte devi stare calmo ti ha rotto l'armatura si ma sembro più forte di lui ok oh yes bravissimo me ne ero accorto che ero più forte ero più grosso più grande per cavolo si perde l'armatura eh ma fammelo mangiare però bellino bellino oh devi stare calmo con la tnt eh dove sei comunque anche la tnt è parecchio forte occhio 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 perché non lo sto coprendo con le frecce ma non lo so perché è difficilissimo da pigliare no non lo sei colpa ah ecco devi essere molto molto preciso forza step che ne uccidi un altro oh yes bravissimo ok già due kill eh già due kill non so ancora giocare ma almeno stiamo sterminando la mappa ci sta mangia 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 comunque è molto carino mi piace che ci siano tutte le skin diverse ok ed è carino si perché la skin raga che vedete l'ho selezionata ok ah quello che ci stavano tirando prima contro che sono le torte no sembra un ovo più o meno non lo so armatura armatura occhio oh yes e dicevo ci sono un sacco di skin selezionabili ed è carino tanto quanto quello di fortnet molto bellino perché non fa danni secondo me è stata una festeria a prendere le uova a me te lo aspettavi prendiamoci e teneti di nuovo cioè non so bene che faccio però boh non mi piace no sembra scarsissimo quindi stiamo attenti sono undicesimo in classifica ultimo ultimo no magari c'è qualcun altro ancora più sotto non puoi sapere secondo me siete in undici magari sono l'ultimo dei primi siete in undici e tu sei l'ultimo tu sei l'ultimo ok mi riprendo anche l'armatura perfetto ok è abbastanza interessante nel senso anche lungo nel senso te la puoi gestire con calma non è come gli altri che devi subito feitare subito stare lì a fare un disastro invece qua a farmi con calma te la farmi come su minecraft hai capito vai lì prendi la legna quando incontri uno combatti ti fai l'aromaturina la spadina in questo caso la tnt e continui ad andare avanti guarda come sono ottavo adesso eh ultimo ultimo vedi che poi non c'è più nessuno perché uno sicuramente è uscito siete in dieci tu sei ultimo ho capito ma non sto facendo nulla di male oh devi picchiare la gente devi stare molto calmo eh ok è davvero difficile la tnt non capisco quale la tnt mi sono andata auto esplodere no no la tnt non la voglio più mi sono autopreso addirittura ti fa danno eh si perché se ci rimani sopra esplodi però è cattivissima eh ma le uova però cosa fanno non l'ho capito questo funziona? cosa fa? ah certo ehi bello fai fermo e lanci ok questo sembra forte queste sono le fireball di minecraft sì teoricamente fortissime tecnicamente sì bello dove sei? vai squaglialo ma ma ok è stata un po' strana come batteva a me sembra inutile essere gigante francamente anche a me cioè lei era piccolina e mi pestava comunque l'arco mi sembrava il top sì anche secondo me è il più forte cioè alla fine e dicevo non mi è sembrato molto utile essere gigante non comprendo cioè anzi quelli piccoli riescono a schivarti meglio e comunque ti fanno tutto il giro quindi sono anche più agili ah non lo so è da capire ok non è un caso che abbiamo messo la skin a nubo raga non è un caso comunque in basso abbiamo l'exp come quella di minecraft la vedi la barra che sale sì l'ho già vista io non ho mai notata sì l'ho vista tipo dall'inizio del gioco eeeh stiamo calmi vai stef quello quello è forte stiamo calmi uh sei in mezzo a una rissa morirai stef morirai morirò è morto però guarda quanto do io ma non lo so ah cambiamo un skin secondo me è la skin vero ci portava Iella facciamo il re sono il re questo è bello sono il re del mondo subito quest'arma bella grazie perfetto ci prendiamo anche subito lo shield che è ancora più perfetto l'elmetto e adesso andiamo a comandare però assolutamente sì secondo no non lo so non so cosa dirti non capisco cosa serve diventare grande più forte è la fireball o l'arco mmm forse è l'arco non lo so vedi combatti dovete stare calmi la fireball mi è sembrata molto facile da schivare mmm mentre vesce l'arco essendo più veloce la freccia riesci a pigliare meglio però è molto veloce guarda mh beh beh ci sta vai allora quello sarà meglio del tuo equipaggiamento a me sembra un cobblestone quindi non mi sembra un granché francamente e poi c'è sono a 460 punti aspetta però io prendo questo e aumenta prendo la mela e non aumenta ok non ci capisco continuiamo a sparare e basta va bene secondo me è la cosa migliore è la cosa migliore da fare sono dei player da sconfiggere la cosa migliore assolutamente sì siamo tutti d'accordo è certo dove sei? voglio rissa ti ho visto sparare vieni qua dai bello ti ho visto so che sei in zona hai preso pure l'uovo qua perché pensavi fosse una buon'arma ma noi abbiamo già scoperto che è un'arma che fa schifo quindi vieni da noi o magari non abbiamo capito come si utilizza o magari non abbiamo capito come si utilizza che è più probabile ancora esatto ma non è che questa freccia mi segna dove è un player vedi la freccia nera ah in effetti vediamo forse è solo dove stai andando no perché guarda ah ok vedi vedi è chiaramente la direzione di qualcosa poi se è qualcosa di utile o meno lo scopriremo solo vivendo però la direzione per andare da qualche parte cavolo ma i primi hanno un punteggio comunque esagerato cioè ci stanno a giocare qui tutta la mattina sì e mi scusi però è stato bellissimo cioè non ho capito qua uno sta passeggiando tranquillo e si vede le tini che lo sfiorano a me non sta molto bene questa cosa hai sentito il venticello nell'orecchio questo sarà seguendo una freccia grigia grigio scuro che non porterà da nessuna parte che non porterà da nessuna parte quindi c'è lasciatemi ti ha portato dal boss ti ha portato da quello più forte infatti sei primo non mangiate è tutto mio distruggili il resto si deve far valere vai e muori porca miseria mangia 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 hai distrutto i primi quindi ti porta dritto al primo però adesso tu ovviamente sarai segnalato quindi attaccato dagli altri sì quindi devo andare muovermi togli i denti di denti di empinto ovviamente esatto devo mangiare devo scappare e mangiare sono a 31.400 vedi che non serve a nulla però essere grandi cioè sono arrivato lì ho tirato due colpettini e li ho stesi tutti e quindi a cosa serve essere giganti essere i primi essere i primi vado a avere 31.000 e mezzo devi stare calmo poi ti attaccano tutti ovviamente uccidilo uccidilo ma vedi che non faccio neanche più danno cioè è un punto io dai aia aia no stef però te l'ho detto le frecce sono le più forti vedi sono molto forti le frecce caro stef molto è stata una bella partita però dai sei stato primo per circa quanto 40 secondi no due minutini dammeli due minutini dai non so se ci sono state secondo me due minutini ci sono state ma dai ci sei stato primo è stato te lo posso dire dimmi secondo me fa un po' schifo anche secondo me proprio non lo volevo ma io voglio essere gentile col gioco secondo me fa un po' schifo cioè se gli punto io sono diventa gigante poi diventi gigante e fai lo stesso danno gli uno piccolo e ti puntano tutti guarda anche questi che comunque combattono se io che fanno danno ma tecnicamente i piccoli guarda guarda lo sta andando salendo due piccoli e lo stanno distruggendo appunto cioè guarda perché da se li batte però è già più di metà vita però tu da grande dovresti shottarli i piccolini cioè gli dovresti dare un colpetto e gli dovresti distruggere la serie non ti permettere no certo sono il boss è sempre stato così comunque nei punto io che il più forte distrugge i più piccoli fermiamoci neanche faccio provare a fare la partita perché tanto non le piace si lamenterebbe basta si farebbe auto esplode i tnt è un po' strano ecco appunto e un po' è stata una delusione vabbè hanno messo minecraft tanto per farci un gioco esatto però poi non hanno fatto bene perché dai tipo fornit era una figata era una figata pazzesca in ogni caso ci fermiamo così come sempre qua sotto comparendo nuovi video iscriviti al canale campanellina e ci vediamo nel prossimo video ciao ciao ciao